Quella che si appresta ad iniziare sarà la stagione concertistica numero 79 della Società Aquilana dei Concerti Baratelli che ha presentato a Palazzo di Paolo il programma. Si inizia il 6 ottobre, si finisce domenica 27 aprile con i concerti che si snoderanno tra il ridotto del teatro comunale e l'auditorium del parco. Grandissimi nomi presenti, basti pensare ad Alessandro IV con il suo violino, passando per altri nomi celebri come Giovanni Guidi. Sarà presente per la Nocce Spagnola, il Quartetto Casals e ancora il Trio di Parma, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, il Quartetto Fibonacci e tantissimi altri artisti. 79 è un numero importante, la Baratelli ha adeguato il suo programma al momento e a tutte le influenze, grande qualità, solisti e gruppi cameristici di rilievo internazionale, progetti speciali e innovativi spesso in prima assoluta comunque pensati per il pubblico, ai quali si aggiungono le proposte del Circolo Giovanni Amici della Musica ed altre attività culturali e formative. Protagonista sarà anche il jazz, con sei appuntamenti in collaborazione con Umbria Jazz. Il numero 79 comincia a essere un numero importante, ci stiamo preparando proprio per l'ottantesimo, così come la città dell'Aquila si sta preparando per appuntamenti altrettanto importanti quale appunto il riconoscimento di capitale italiana della cultura, quali saranno le linee guida, intanto consolidare la tradizione, la tradizione della Baratelli ormai nata nel 1946 e quindi un forte riferimento, un forte richiamo a quelli che sono i valori più importanti del repertorio musicale di tutta l'epoca e di tutti gli stili e non potrebbe essere diversamente soprattutto in un periodo in cui la multidisciplinarità, il multiverso, l'interdisciplinarità è presente a tutti i livelli e quindi siamo ovviamente un po' condizionati da questo per cui riteniamo che il nostro sia un messaggio e la nostra linea di conduzione debba attenersi a quello che sono le tradizioni, non ovviamente tenendo conto anche di quelle che sono molte novità di rilievo che potrete poi scorrere nello specifico nel programma.